salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone benvenuti bene oggi vi porto questo smartwatch particolare blackview w60 uno smartwatch rugged uno smartwatch che significa robusto capace di resistere a temperature di meno 30 gradi e più 70 gradi quindi temperature veramente estreme ed è uno smartwatch che per il prezzo che ha secondo me da veramente tantissimo bene andiamo a vedere cosa c'è dentro la confezione io lo smartwatch ce l'ho attorno lo sto usando lo sto provando e credetemi che è molto molto valido per il prezzo che ha per quello che da veramente eccezionale bene come vedete parto subito dallo smartwatch ha un display da due pollici come vedete veramente enorme molto luminoso perché così siamo luminosità al minimo adesso vado aumentare la luminosità 3 4 5 e 1 vedete posso aumentare la luminosità non ha la luminosità automatica ma guardate che luce che fa è veramente eccezionale qui siamo sotto la luce di una lampada e guardate che bene che si vede molto molto valido bene perché questo smartwatch è particolare perché comunque è ip68 ha la possibilità di andare a una profondità fino a 10 metri quindi potete andare al mare potete andare in piscina potete andare dove volete questo smartwatch resiste all'acqua non c'è nessun problema abbiamo l'unico smartwatch che io ho visto fino adesso con una torcia integrata una vera torcia non una torcia così tanto per dire e credetemi che fa una luce di notte impressionante io questa notte sono andato a dormire poi mi sono svegliato di notte ho detto vado in bagno ho usato la torcia illuminava la stanza guardate che luce è veramente eccezionale una torcia che comunque si può regolare e anche il sistema per fare ls os e adesso vi faccio vedere basta andare nella nel menu torcia eccoci qua e qui posso regolare la torcia quanta luce voglio quindi posso aumentarla e diminuirla come vedete e posso fare anche il flash in modo da usarlo come sistema se andiamo per strada che vogliamo farci vedere e vogliamo farci vedere che ci siamo in strada questa luce qua la si vede di sicuro può resistere fino a una trazione di 7 kg e soprattutto anche la bussola che adesso vi faccio vedere magari ecco qua guardate che bella bussola quindi per non perdervi se andate in montagna a fare delle camminate perché per me questo qua è un orologio che è fatto per andare a fare escursioni per andare in montagna perché è una batteria eccezionale dovete far conto che io ce l'ho da tre giorni e sono ancora il 91 per cento di batteria e l'ho usato perché logicamente le prime volte che ce l'hai fai delle prove cambi display fai delle prove della torcia la resistenza inizia ad avviare alcuni programmi eccetera e ancora ho consumato solo il 9 per cento in tre giorni praticamente siamo un consumo della batteria del 3 per cento al giorno fate voi il conto quindi un mese lo potete fare tranquillamente ha una batteria da 900 mili ampere una cosa veramente esagerata ma che comunque serve perché con questo andate sempre tranquilli bene cosa troviamo dentro la confezione troviamo quella confezione così microscopica molto fina qui vedete che c'è l'applicazione da scaricare si chiama glory fit pro ed è l'applicazione che dopo andiamo a vedere all'interno troviamo le istruzioni per l'uso molto veloci quindi qui il primo avvio guida guida rapida come utilizzare l'orologio poi qui c'è scritto utilizzo l'orologio come associare l'orologio cosa semplicissima perché lo si trova in un battibaleno e alcune impostazioni molto molto veloci che dopo in caso vi faccio vedere un attimo troviamo il caricabatterie magnetico eccolo qui con una presa usb e poi troviamo una bella sorpresa un bel cinturino che vedete fatto così che poi lo si aggancia qua un cinturino che vi permette anche di andare anche se sudo questo qua un tessuto traspirante veramente carino è un bel pensiero perché comunque un cinturino così un po di soldi non si va a pagare e qui è già compreso nel prezzo in questa colorazione qua bene quindi cosa andiamo a vedere allora questa recensione qua sarà una recensione un punto un unboxing vedere cosa c'è nella confezione come va l'orologio le prime impressioni e vi faccio vedere un po' l'applicazione poi volevo fare magari fra un tre settimane quattro quando l'ho utilizzato per un po di tempo portarvi dei dati reali della batteria quanto dura e portarvi anche come funzionano i vari sport e le varie sport automatici bene quindi adesso voglio portare un attimo l'applicazione per farvi vedere com'è fatta quindi adesso vi faccio vedere che è questa qui glory fit pro vado ad aprirla adesso io qua l'avevo già aperta e questa è la mia giornata di oggi vedete che ho fatto 13.000 passi 10 km 29 sono 763 calorie frequenza cardiaca sempre attiva quindi anche qui la batteria dura tantissimo questa notte ho dormito 8 ore e due minuti ossigeno del sangue lo stress periodo mestruale per le signore possiamo andare su sport e qui mi mette la mappa di come di dove parto eccetera ma questo ve lo porterò in un'altra recensione dispositivo e qui vediamo il nostro dispositivo qui abbiamo dove abbiamo tutti i quadranti che possiamo andare a cambiare guardate quanti ce ne sono e dentro quadrante meccanico bene vado dentro ce ne sono altri che potete scegliere e mettere molto veloce da caricare e molto molto luminosi poi abbiamo promemoria sms comunque posso ricevere whatsapp gmail instagram tutto quello che mi serve la sveglia monitoraggio della salute io qua ho messo monitoraggio della frequenza cardiaca abilitato ossigeno del sangue abilitato pro memoria sedentralità abilitato monitor dello stress ok poi vado promemoria app chiamata in arrivo questo smartwatch potete chiamare e rispondere perché qui abbiamo il menu abbiamo le chiamate contatti registro chiamate tastiera sos tastiera bene 0421 e faccio il mio numero che posso chiamare chi voglio ha un audio veramente eccezionale al massimo del volume si sente come un viva voce di un cellulare molto molto bene per questo e anche chi vi sente dall'altra parte mi sente bene poi abbiamo sport che abbiamo già detto dispositivo io e qui abbiamo l'esercizio settimanale e qui possiamo andare a vedere questo magari ve lo porto in una prossima recensione quando appunto parleremo per dopo due tre messe settimane che l'ho utilizzato bene torniamo al nostro dispositivo che eccolo qua allora ha anche dei tasti fisici oltre a essere touch anche dei tasti fisici quindi abbiamo l'in menu che quindi andiamo dentro qua e il back per tornare indietro quindi avete le mani sporche avete i guanti benissimo potete tornare indietro e utilizzarlo tranquillamente come fosse con i tasti fisici il menu può essere così come vedete qui abbiamo tutto la torcia la bussola avete la calcolatrice avete il cronometro il controllo rovescia l'ossigeno del sangue le telefonate l'assistente vocale il sonno qua andate a vedere il sonno come è andato come avete dormito quante ore in fase rem veglia proprio completo di tutto veramente torno indietro qui abbiamo la tendina dall'alto verso il basso tiriamo giù e abbiamo la tendina che posso questo è il menu posso metterlo in griglia posso metterlo in questo modo qua posso metterlo in questa funzione qua in tondo come volete voi poi abbiamo per dormire la notte le chiamate le impostazioni abbiamo rilevamento export se vogliamo metterlo automatico qui andiamo vedete io ho messo automatico e oggi in effetti stavo camminando a lavoro mi ha detto stai camminando da più di dieci minuti bene è partito a contarmi i passi sistema qui andiamo a spegnerlo o a rimpostarlo codice qr informazioni nome dispositivo w60 modello nal versione indirizzo eccetera quindi abbiamo tutto quello che si può avere da uno smartwatch ma soprattutto ha una super super mega batteria non avete mai problemi di restare senza batteria questo qua anche se andate via una settimana andate a fare delle escursioni andate in tenda a fare il campeggio qui andate tranquillissimi veramente eccezionali e poi sta torcia qua che illumina che è veramente impressionante bene poi che dire in caso vi porterò alle applicazioni sì scusate le notifiche quando arrivano non potete rispondere tipo whatsapp gmail eccetera vi arrivano le guardate potete consultarle ma non potete rispondere dal basso verso l'alto ci sono le notifiche di qui abbiamo l'esercizio quotidiano quindi qua abbiamo riassunto delle nostre calorie distanza passi dettagli dei passi quello che vi ho fatto vedere prima sull'applicazione potete vedere qua di qua abbiate la frequenza cardiaca costante sempre 24 ore su 24 l'ossigenazione del sangue la torcia e la bussola e qui lo stress sonno il meteo se vedete che bel display che ha una funzione che ho scoperto poche ore fa è questa dal display così fate questo movimento e avete le scorciatoie per andare sulle applicazioni che desiderate o che usate di più volete cambiare il quadrante bene tengo premuto questo tasto qua ok e qui cambio i vari quadranti quelli che più vi piace e ce ne sono sempre in arrivo bene al momento sono stra soddisfatto del prodotto ringrazio blackview per avermi fatto dato la possibilità di provarlo vi lascio in descrizione il link dove poterlo acquistare un prezzo veramente eccezionale se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale che è gratuito così vi porto anche delle altre novità e attivate tasto notifiche vi farò una seconda parte della recensione appunto fra una quindicina ventina di giorni dopo averlo utilizzato anche per vedere se la batteria dura veramente un mese come dicono e se è proprio così i dati sono reali quindi vi porterò dei dati reali dell'utilizzo e magari anche qualche esempio di utilizzo grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti